Non ha sofferto la concomitanza con la festa regionale dell'unità tenutasi a Pesaro. Anzi, la festa democratica di Vallefoglia ha vissuto una proficua sinergia interscambio di ospiti con Baia Flaminia, registrando 5 giorni di pienone con 4.000 presenze ad alternarsi fra dibattiti, buon cibo e spettacoli, allestiti magistralmente dal grande impegno dei tanti volontari coinvolti. Il Partito Democratico a Vallefoglia è una comunità viva, vivace, radicata e pronta alle prossime sfide, a partire dalle regionali del prossimo anno. Come abbiamo detto, erano i risultati di giugno, quando siamo tornati primo partito all'europeo, contribuendo anche in maniera importante all'elezione di Matteo Ricci al Parlamento europeo. e la vittoria larga, con un grandissimo consenso vicino al 59%, ci ha sostanzialmente imposto di organizzare un grandissimo evento popolare che chiamasse raccolta centinaia e centinaia di cittadini, a prescindere dalle appartenenze territoriali e dalle appartenenze politiche. Tante le personalità politiche che hanno fatto tappa al Parco Volponi di Montecchio, da Stefano Bonaccini e l'area Cucchi, fino alla segretaria regionale DEM, Chantal Bonprezzi. Abbiamo avuto tre europarlamentari, quattro parlamentari nazionali, diversi sindaci importanti anche del nostro territorio e non solo, Michela Vitri come consigliera regionale, esponente della sanità, dell'ambientalismo, dei movimenti per la pace e per la lotta dei diritti delle donne, quindi veramente movimenti del sindacato. Quindi è stata una festa dove abbiamo messo insieme diverse anime con le quali poi vogliamo costruire l'alternativa sia a livello nazionale al governo Meloni sia al governo Acquaroli in vista delle regionali del prossimo anno. C'è una partita delle regionali, si vota in Emilia Romagna, si vota in Umbria, si vota anche in Liguria. Abbiamo buone chance per avere successo anche forse nelle due regioni che sono governate al centro-destra, cioè l'Umbria e la Liguria. Penso che ci sia una buona premessa anche per ritornare a governare le Marche. e diciamo ragionare insieme sul futuro delle Marche è stata una delle occasioni. Ritrovare la compattezza del Partito Democratico, che è il motore di una coalizione democratica di centro-sinistra più larga, è fondamentale. Quindi siamo pronti a giocare le prossime partite e a far notare le differenze, perché Vallefoglia ha scuole di grandissima qualità, piste ciclopedonali, municipio nuovo, due teatri. Dedichiamo decine e decine di ore, 10-15 ore al giorno, per il benessere della nostra città, della nostra comunità, dei nostri cittadini, che li ringraziamo per una grandissima partecipazione, oltre ai nostri militanti, a questa bellissima festa di cinque giorni.